Sei pronto. È il tuo momento perfetto. È la tua idea. È la tua versione della storia. Click dopo click. Perché il mondo ti guarda. Scegli la rete Vodafone migliore di sempre e il nuovo Huawei P20 Pro con tripla fotocamera. Per foto senza limiti. Su una rete senza limiti. Così il futuro è straordinario. Ready? Grazie.